l'italia sicuramente per cercare di battere sudafrica dovrà giocare penso una partita perfetta dovrà giocare con una concentrazione che parte fin da oggi nello studio di quello che è il proprio ruolo all'interno di ogni giocata di ogni difesa e dovrà giocare fisicamente perché comunque sono una squadra che a livello fisico sono al top e soprattutto dovremo cercare di imporci anche a livello mentale cercare di far uscire in loro un insicurezza di metterli in testa che comunque con la partita devono guadagnarsela anche sul campo penso che rispetto alla partita di Firenze abbiamo una squadra con più profondità penso più fisica e con più consapevolezza perché comunque da quella partita abbiamo fatto tante buone prestazioni e ovviamente però dovremo essere in grado di portare in campo tutto questo che abbiamo guadagnato in questo in questo periodo e per farlo come dicevo prima ci vorrà una concentrazione alle stelle